Stamattina andiamo a fare la spesa. Come vedete qui si può stare tranquillamente in mezzo alla strada che non passa mai nessuno. Questa è proprio la strada che va a Funestale dove oggi andremo a fare la spesa. E' una bella giornata quindi. Stiamo entrando nel paese di Funestale. Questo è il centro di primo soccorso in Funestale. Qui si trova un po' di tutto. C'è la farmacia e poi c'è una parte dove se hai bisogno comunque c'è un pronto soccorso immediato. E ora entriamo perché stamattina devo accomprare delle cose in farmacia e più magari al mezzo di dentista. Allora siamo all'interno di questo centro. Adesso aspetto perché c'è un po' di fila nella farmacia. E adesso entro dal dentista. Allora siamo in farmacia e aspettiamo il nostro turno. Qui c'è per prendere il ticket. Allora siamo al parcheggio di Funestale e andiamo adesso a fare un po' di spesa. Grazie. 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 Puoi continuare, Alexandra? Come facciamo? Un po' di crema e di spruta. Questo è il reparto frutta. Non è proprio come il nostro in Italia, però ci arrangiamo. Ci sono i pomodori tutti uguali. Grazie. Allora, ci troviamo davanti al museo di strumentale. E adesso andremo a fare... Mi faccio vedere un po' di cose. Allora, ci troviamo davanti al museo di strumentale. E adesso andremo a fare... Possiamo trovare questi un po' ovunque in tutto il paese. in tumore... Put ecc! No. Tell me where to talk! Allora qui ci troviamo nella chiesa del paese Nella chiesa di Finesdalli appunto Ora mi provo a alzare senza cadere Spero E' bellissimo come vedete, tutto bianco Grazie Questo è un paesaggio bellissimo C'è un lago ghiacciato meraviglioso E' un sole splendente oggi C'è un lago ghiacciato C'è un lago ghiacciato C'è un lago ghiacciato E' un lago ghiacciato E' un lago ghiacciato E' un lago ghiacciato C'è un lago